La preghiera e la carità unisce musulmani e cristiani. Un'unione già forte a Frosinone e che si fortifica in occasione della giornata mondiale di preghiera, digiuno e carità. Una giornata che esprime il desiderio di ogni religioso di vivere, nel mondo, la forza del proprio patrimonio umano e spirituale. L'incontro è avvenuto nell'area esterna della cura viscovile di Frosinone. Gli uomini e le donne nella loro diversità imparino a vivere insieme nell'unica via possibile che è quella del dialogo, che favorisce la convivenza, la solidarietà. E allora oggi è stata dichiarata questa giornata che Papa Francesco ha fatto sua di preghiera, digiuno e carità. La provincia di Frosinone fortunatamente è un grande esempio di convivenza che non parte da oggi ma da tempi molto lontani. Facciamo nostro quindi il messaggio di Sua Eccellenza al Vescovo. Abbracciamo quindi a nostra volta il messaggio del Papa che ha convocato questa giornata, invitando tutto il mondo a questa particolarissima giornata. Una giornata che acquista un significato ancora più forte in questo periodo di pandemia. Mi dispiace e talvolta veramente mi rattristo a vedere come ancora in questo tempo ci sia gente che voglia giudicare gli altri, prendersela con gli altri. L'insoddisfazione della vita non può diventare un motivo per essere contro qualcuno. Noi siamo qui per dire che vogliamo costruire un mondo in cui essere fratelli e sorelle, in cui essere solidari, in cui dare una risposta forte e degna della nostra umanità a questo tempo difficile. Questa giornata che capita appunto durante questa pandemia ci fa capire quanto siamo in realtà molto fragili, siamo molto deboli singolarmente. Nel singolo nessuno può farcela, ma collettivamente noi possiamo unire le nostre forze. La preghiera per tutti i credenti ha una forza che unisce a Dio e crea comunione con gli altri, va oltre barriere e limiti. Non dobbiamo trascurare neanche un secondo, neanche un giorno per poterci dedicare agli altri. La comunità musulmana già nei giorni scorsi ha continuato a svolgere quelle che sono le iniziative di solidarietà. Sia la lezione per tutti noi, noi cristiani siamo, come dice il Concilio, in Gesù, in Gesù Cristo, siamo fratelli e sorelle, siamo strumento e segno della intima unione con Dio e della unità di tutto il genere umano.